grazie per essere qui come vedete ci siamo solo in due perché i maschietti sono a casa influenzati ma sono collegati con noi via Skype Simone Pieranni da Roma Simo Francesco Costa da Milano ciao buongiorno a tutti scusate oggi volevamo fare più che altro una chiacchierata su questo nuovo mezzo questo nuovo strumento per parlare di giornalismo in Italia che non è ancora molto diffuso purtroppo tanto volevo iniziare sapendo quanti di voi ascoltano podcast o hanno ascoltato podcast solo italiani anche stranieri stranieri sono stranieri ottimo questo è un dato interessante portiamo allora i podcast in Italia sono ancora diciamo ritenuti soprattutto quelli dei programmi radiofonici per cui tu ti perdi un programma radiofonico poi vai sulla rete e lo recuperi in podcast sia qui io Simone Francesco abbiamo fatto invece dei podcast giornalistici che hanno dei contenuti autonomi non andiamo in onda da nessuna parte siamo direttamente prodotti per andare in rete e poi essere diffusi tramite cellulari o tramite lo streaming diciamo il problema è che in questo momento storico in Italia ancora il podcast è legato molto alla questione delle radio a noi spesso dicono complimenti per la trasmissione quando ascoltano il programma cioè il nostro podcast Francesco Costa lo conoscete tutti ha fatto da Costa a Costa che è stato uno dei podcast anzi forse il primo podcast italiano che ha avuto un grandissimo successo in tutto lui ha fatto 42 puntate per più di un anno e mezzo e ha seguito insomma le vicende americane quindi adesso volevo chiedere a Francesco di raccontarci un po' come è nato il suo podcast eccomi dunque innanzitutto mi scudo di nuovo anche se in qualche modo è ironico che a un panel sui podcast io intervengo come una specie di voce fuori campo cercherò di non parlare troppo perché so quanto sia fastidioso durante un evento dal vivo dunque il progetto da Costa a Costa non era nato come un podcast era nato come una newsletter e basta e questo era quello che io avevo intenzione di fare anche perché non ero un ascoltatore di podcast prima di cominciare a farli a mia volta cosa che infatti ho scontato perché qualche tempo fa ho riascoltato la primissima puntata di Da Costa a Costa e ho dovuto interrompere l'ascolto dalla vergogna e dall'imbarazzo dopo dieci minuti perché era una roba molto diversa diciamo da quello che poi il podcast è diventato in seguito tutto è cambiato quando un giornalista che si chiama Carlo Annese e che all'epoca faceva il vice direttore di GQ ma era molto appassionato di podcast e aveva un suo piccolo podcast che si chiamava Voi siete qui mi chiese un'intervista per il suo podcast dopo aver fatto questa intervista cominciamo a discutere e chiacchierare di quanto e se quello che io stavo facendo per iscritto e quindi raccontare settimanalmente la campagna elettorale all'epoca in vista delle elezioni presidenziali del 2016 negli Stati Uniti si potesse fare invece in formato podcast e questa cosa mi incuriosì moltissimo anche perché questo era un progetto che io curavo nel mio tempo libero fuori dal mio incarico al post e uno dei miei obiettivi era imparare a fare cose nuove cosa che stavo facendo con la newsletter l'idea di non aver mai fatto un podcast era quindi allettante e rendeva allettante l'idea di cominciare a farne uno grazie al sostegno di Carlo che da grande appassionato di podcast aveva anche allestito una specie di piccolo studio in casa sua che poi è diventato una cosa più professionale ed è diventata la società che oggi si chiama Piano P abbiamo cominciato a fare questo podcast scoprendoci innanzitutto da soli come diceva prima già da oggi non c'è un vero mercato dei podcast italiani ci sono degli ascoltatori sì però se aprite le classifiche di iTunes vedete che ci sono soprattutto trasmissioni radiofoniche che poi vengono riproposte in formato podcast e se guardate in giro esistono diversi podcast amatoriali anche di buona qualità con contenuti interessanti però insomma che non hanno che non sono dei progetti giornalistici veri e propri che non hanno nemmeno un obiettivo di non so di sostenibilità economica o di ricerca di sponsor o di cose del genere quindi ci muovevamo un po' davvero come dei pionieri abbiamo anche imparato molto a fare le cose facendole quindi appunto le prime puntate di da costa a costa erano molto improvvisate la qualità non era quella delle ultime c'era una storia però che era una storia fortissima che era quella di quella campagna elettorale che ha trascinato secondo me quel podcast nella sua prima stagione quindi nella parte che poi si è conclusa con le elezioni presidenziali quando poi ho ricominciato a fare da costa a costa con la seconda stagione dal gennaio del 2017 fino al scorso dicembre abbiamo cercato di fare le cose in un modo più professionale il podcast è diventato quindicinale non c'era più una campagna elettorale da raccontare quindi non c'era più nemmeno questa storia che poi teneva un po' tutti in sospeso le campagne elettorali sono belle anche perché a prescindere da tutto uno vuole sapere come va a finire chi vince alla fine è una di quelle storie perfette per essere raccontate con uno strumento come il podcast che quindi ti accompagna durante questo evento così lungo però c'era il primo anno dell'amministrazione Trump che per tutti era un punto interrogativo compresi i detti ai lavori una parte integrante del progetto del 2017 quindi della seconda stagione di tra costa a costa sono stati i viaggi io non volevo più limitarmi a prediligere il racconto della campagna elettorale fatto da casa per quanto poi sono andato in America tante volte anche nel 2016 ma volevo andare negli Stati Uniti e vedere le cose sul campo ci sono riuscito anche grazie alle donazioni degli ascoltatori e dei lettori che sono state una parte fondamentale del finanziamento di questo progetto sono andato in Michigan in Texas e in California e proprio i viaggi ho scoperto sono stati la cosa che mi è piaciuto di più raccontare con i podcast da costa a costa nella sua seconda stagione era strutturato come una specie di una settimana questo racconto avveniva in formato testuale attraverso la newsletter la settimana successiva attraverso un podcast ma i viaggi che ho fatto li ho sempre raccontati soltanto con il podcast e non più per iscritto nonostante io sia un giornalista che ha sempre scritto per mestiere non avevo mai fatto podcast prima non ho fatto tv salvo qualche ospitato occasionale il mio strumento di lavoro non è mai stato la voce prima di prima di questa esperienza eppure la cosa che ho capito è che e non era così intuitiva secondo me raccontare un viaggio raccontare i posti che vedi far ascoltare la voce delle persone con cui hai parlato senza limitarti a riprodurla con un virgolettato ha una efficacia una potenza che non mi aspettavo e riesce ad avvicinare le persone al tema di cui tu stai parlando in un modo che secondo me è persino superiore a quello della scrittura poi naturalmente ci sono grandissimi giornalisti in grado di scrivere dei reportage formidabili che ti portano sui posti in cui loro sono stati ma il podcast ha questa caratteristica che evidentemente poi è anche mutuata dalla radio è un'esperienza più intima della lettura almeno io poi che sono anche diventato ascoltatore di podcast mi ritrovo così in questa esperienza quando ascolto i podcast degli altri mi sembra che sia un'esperienza di immersione in un racconto che ha pochi pochi uguali il fatto che ti possa poi accompagnare mentre fai qualcos'altro al contrario di un documentario che ti costringe a stare lì ma tu puoi ascoltare il podcast sulla metro sul tram stirando lavando i piatti facendo qualsiasi altra cosa allo stesso tempo mi crea contribuisce a creare un rapporto tra chi parla l'autore del podcast e gli ascoltatori che di nuovo io non avevo mai trovato nella parola scritta quindi ad esempio Giada Costa Costa è un esempio di podcast in cui tu per un periodo hai seguito proprio l'attualità diciamo e poi invece hai fatto dei racconti e il racconto è un po' anche la cifra del podcast che invece abbiamo fatto io e Simone Pieranni che si chiama Rishow che è sempre prodotto da Biano P e che nel nostro caso è noto da un'esigenza molto banale io ero fan di Francesco cioè ascoltavo il suo podcast e mi piaceva moltissimo io e Simone ci occupiamo di Cina da tantissimo tempo in maniera diversa e purtroppo di Cina in questo paese non si parla se non diciamo per stereotipi o insomma visioni un po' ancora antiquate di quello che è in questo momento storico il paese ascoltando Francesco insomma la vittoria di Trump e tutta una serie di eventi che sono successi insomma negli ultimi due anni ho detto qua manca completamente il racconto della Cina infatti io e Simone abbiamo usato una modalità più simile diciamo al no neanche perché non siamo andati in Cina siamo stati tanti anni fa ma per fare la prima edizione di Cina non siamo andati in Cina ma abbiamo cercato di fare delle puntate che dessero a chi le ascoltava il contesto di quello che sta succedendo in Cina di che cos'è la Cina in questo momento di quali sono le principali diciamo la sua posizione geopolitica in questo momento per dare degli strumenti a chi poi legge le notizie sui giornali che spesso sono slegate dal contesto per dare una chiave in più per capire quello che sta leggendo sui giornali e quindi abbiamo deciso di fare otto puntate proprio di in cui abbiamo spiegato chi è Xi Jinping qual è la sua visione del mondo i vari progetti la via della seta che è un altro progetto che coinvolgerà tutto il mondo di cui si parla adesso se ne inizia a parlare ma non ancora abbastanza bene questo Made in China 2025 che è un altro progetto cinese di cui forse avete sentito parlare in queste ultime settimane perché i dazzi di Trump mirano diciamo un po' a minare questo progetto cinese abbiamo cercato di dare delle basi di conoscenza minima e anche lì l'abbiamo cercato di fare raccogliendo dei suoni o delle ad esempio vi faccio sentire un pezzettino della purtroppo Simone la prima puntata no ho deciso di far sentire abbiamo deciso di anche raccontare delle storie di miliardari famosi e la cosa bella del podcast è che noi possiamo prendere degli audio delle interviste delle cose e soprattutto possiamo anche chiedere delle interviste a noi ci siamo appoggiati spesso a dei giornalisti stranieri per chiedere dei contributi audio abbiamo magari letto dei libri che ci sembravano interessanti abbiamo intervistato queste persone e la cosa che dicevamo anche prima con Barbara è molto bello quando fai questo lavoro vedere che se tu scrivi a il mega giornalista del New York Times ti risponde in due ore mandandoti l'audio che tu gli hai richiesto e se tu invece chiedi a un nostro compaesano qualsiasi cosa spesso è molto faticoso e molto più machinoso arrivare ad avere questi contributi audio Simone tu vuoi dire qualcosa? io mi preoccupavo che tu facessi sentire la prima puntata perché anche per noi la prima puntata riascoltarla adesso ci vergogniamo tantissimo perché se Francesco ha resistito dieci minuti io credo di non aver resistito neanche due minuti perché e con l'aggravante che io invece in Cina soprattutto ascoltavo parecchi podcast perché vabbè come sappiamo in Cina ci sono tutta una serie anche di problematiche legate naturalmente alla navigazione in rete che si può vedere tutto ma serve una VPN quindi talvolta la connessione è molto lenta quindi conveniva molto di più scaricarsi durante la giornata dei podcast e poi ascoltarseli offline diciamo e tra l'altro c'è un podcast sulla Cina molto interessante che si chiama Sinica che è stata un po' la prima la mia scoperta dei podcast anche se anche in questo caso rientriamo in un in una situazione più da trasmissione radio che poi diventa come dire un podcast e no io volevo solo sottolineare che Rishow è come si usa dire adesso nasce da un'idea di Giada Messetti lo vorrei precisare nel senso che noi ci siamo incontrati e Giada che ha avuto l'idea di questo podcast e anche a me ovviamente l'idea mi è piaciuta perché soprattutto si trattava di una novità nel senso che io li ascoltavo non pensavo che avessero un audience così ampia come poi invece ha dimostrato di avere Rishow anche grazie al fatto che appunto ci siamo inseriti nel filone aperto praticamente da Costa e da Piano P che quindi aveva già sicuramente un nome per gli ascoltatori del podcast e credo che la cosa che forse a me è piaciuta di più di tutta questa prima stagione è stata proprio la possibilità intanto di avere naturalmente più tempo per raccontare alcune cose anche con un passo più da storia da racconto che in molti casi invece con il lavoro che io faccio che faccio il giornalista quindi tendenzialmente scrivo e devo anche non dare per scontato mai niente ma i tempi come dire gli spazi sono sempre abbastanza ristretti invece all'interno di un podcast attraverso proprio anche altri inserti diventa tutto anche molto più come dire interessante sia da raccontare credo e sia da ascoltare a me la cosa che ad esempio mi è piaciuta di più nell'ambito del lavoro che abbiamo fatto è stato quello sempre di cercare i contributi audio d'archivio possiamo dire perché abbiamo scoperto anche delle cose incredibili e in qualche modo abbiamo aumentato anche alcune nostre conoscenze su cose che magari avevamo già anche studiato e aggiungo un'altra cosa che dicevi tu prima è incredibile come appunto attraverso un semplice messaggio di whatsapp dando semplicemente un indirizzo su itunes o su speaker dove mettevamo il nostro podcast a autori studiosi professori stranieri in pochissimo tempo avevamo degli audio di risposta quindi proprio una comprensione perfetta anche del meccanismo che si veniva ad usare quando in Italia ancora ci mancava quasi che ci chiedessero un fax per avere diciamo le domande quindi credo che queste siano le cose che forse hanno costituito le novità più interessanti e anche la possibilità quindi di aprire a dei canali che precedentemente forse non si potevano percorrere io vi posso parlare della mia di esperienza che è stata quella nata un po' come abbiamo sentito fino adesso nel mio caso si parlava tre anni fa si parlava di Gaza io faccio l'inviata di guerra e ero a casa non potevo essere sul posto dove accadevano le cose a un certo punto vedevo che venivano raccontate in un certo modo io che sono molto emotiva esplosiva da buona frequentatrice del Medio Oriente cominciavo a impazzire a dire ma quante cose non vengono raccontate quante storie ci sono nel mondo che nessuno sa in Italia perché i giornali ormai sono tutti giornali televisioni omologati raccontano praticamente tutti le stesse cose e così sull'onda proprio della rabbia comincio su Facebook nella mia pagina a scrivere tutto quello che voi oggi non sentirete sui giornali italiani buttavo lì 30-40 notizie dal mondo proprio a raffica scritte dopo un po' e la pagina è esplosa nel senso ma perché queste notizie non le troviamo ma perché queste cose non si sentono ma perché queste cose non riesci a raccontarle non riesco a raccontarle perché oggi anche se vado in Afghanistan se vado in Venezuela se vado da qualsiasi parte poi torni e i giornali ti dicono queste cose non ci interessano e non interessano alla gente cosa che secondo me non è affatto vero e allora ho continuato a fare questa specie di elenco su Facebook poi mi ha contattato una collega esperta di Giappone mi ha detto senti ma se io ti facessi le notizie dal Giappone visto che io faccio tutto il mondo proprio e io le ho detto senti cercando siccome poi è un lavoro cercare le notizie gli ho detto senti tu fa l'Oriente io intanto faccio gli altri continenti poi dopo un po' ma perché non facciamo un podcast uno stiziario tutti i giorni con le nostre voci in cui raccontiamo a raffiche si è chiamata poi la radio bullets perché spariamo notizie raccontando quello che non viene detto sui giornali e raccontando anche le cose che noi conosciamo meglio naturalmente nel giro di un anno sono arrivate da noi una ventina di giornalisti tutti come noi che dicevano ma anche noi uno stava in India uno stava in Sudafrica uno stava in Nordafrica non riusciamo a fare a raccontare quello che vorremmo e tutti hanno aperto una piccola noi abbiamo fatto un sito ognuno aveva settimanalmente una rubrica di 5, 6, 10 minuti poi grazie a internet lo spazio diventa relativo e raccontavano delle storie una delle più belle secondo me è stata una storia che ha fatto Leila Bensala che è una ragazza giornalista italiana di origine tunesina che ha intervistato un imam gay che adesso vive a Parigi e celebra matrimoni musulmani gay e funerali di transessuali dove ovviamente vive sotto scorte e tutto storie incredibili poi ovviamente chi poteva partiva io sono andata in Afghanistan in Venezuela e a parte facevo reportage reportage che se riuscivo sono quasi ultimamente quasi sempre partita con crowdfunding anche per dimostrare che quello che i giornali non dicono che non interessa non è vero perché l'anno scorso per andare in Venezuela dove è in corso una crisi che nessuno sta praticamente raccontando io in due giorni ho raccolto 4.000 euro e allora com'è che la gente è disposta a mettere 100 20 30 500 euro per farmi andare in un posto gente che io alcuni li conosco ovviamente ma altri no due persone hanno messo 500 euro di cui io non conosco per farmi andare a raccontare il Venezuela ma chi se ne frega per i giornali e quindi questa cosa si è allargata il problema nostro è vero è non avendo soldi e quindi mettendoci il nostro tempo ha come rendere sostenibile questa operazione perché io mi alzo insieme a un'altra collega tutte le mattine alle 5 per fare la rassegna stampa e uscire e mettere il notiziario online alle 8 e mezza Simone lavora al manifesto io lavoro ora ai 3 Francesco lavora al post diciamo che di podcast non si vive in questo momento in Italia assolutamente no neanche di giornalismo purtroppo e quindi quello che noi ci interroghiamo e questo siamo aperti a qualsiasi consiglio intanto come reperire fondi in un paese che non è ancora abituato molti non sanno neanche cosa sia un podcast e come far sì che cominciare a cambiare un pochino la mentalità che il giornalismo non è solo quello che si trova nei media tradizionali ma ci sono tante brave persone che sanno farlo dove la qualità viene considerata maggiore di quella che fanno adesso nei giornali che è abbastanza low cost perché se voi chiedete quanto vengono pagati i reportage io parlo di reportage perché di quello mi occupo ma anche un pezzo in cronaca quanto viene pagato dei giornali uno dice come fai a mantenerti con le 5 euro di repubblica a pezzo non è possibile ho trovato dei dati interessanti sull'utilizzo dei podcast in America che ad esempio là sono proprio all'avanguardia e come è aumentato quindi in realtà è un mercato che potenzialmente appena si scopre anche in Italia in realtà potrebbe essere anche fonte di guadagno perché ho trovato che nel 2009 in America solo il 9 e il 10% della popolazione ascoltava i podcast e l'anno scorso era passato a un quarto della popolazione quindi ormai ci sono circa 70 milioni di persone in America che ascoltano abitualmente i podcast e addirittura mi hanno raccontato che ci sono questo mio amico mi ha raccontato che sulla metropolitana di New York per sponsorizzare hanno costruito in periferia New York diciamo un nuovo villaggio di case e una delle pubblicità che lui ha letto sulla metropolitana era è lontana ma così tu hai un'ora di viaggio per ascoltarti i tuoi podcast preferiti quindi è proprio fa parte ormai della cultura in America da noi invece purtroppo c'è proprio quest'idea ancora molto legata alle radio e quindi anche per noi banalmente adesso faccio dico questa cosa Simone ma la dico a me Simone piacerebbe molto fare la seconda serie di Rishow abbiamo fatto una prima serie fredda diciamo quindi più di da scalica di spiegazione di comunque appunto come dicevo prima di contesto e ci piacerebbe fare una seconda serie di 6 puntate invece che 8 in cui magari riusciamo anche a fare un viaggio in Cina per raccogliere un po' di materiale e di voci direttamente su come dovrebbe essere insomma l'abbiamo fatto tanti anni quando stavamo là entrambi e vorremmo rifarlo per dare alla seconda serie di Rishow un taglio un po' diverso e questa cosa è molto molto difficile nonostante sia dal punto di vista mia sorprendentemente abbiamo avuto in 6 mesi abbiamo più di 90.000 ascolti e download che io quando ho avuto quest'idea pensavo ci ascoltassero in 4 i miei amici mia madre mio cugino e invece abbiamo una media di 10.000 download appuntata quindi senza pubblicità senza essere finiti su media mainstream semplicemente passaparola e poi vabbè io e Simone io lavoro ho lavorato in radio in televisione quindi magari siamo riusciti a fare qualche ospitata in radio però insomma niente di non abbiamo avuto le paginate diciamo sui giornali ed è molto difficile nonostante appunto sia il numero dei download sia il fatto che ad esempio il nostro podcast abbia un target che va dai 18 ai 38 anni che è un target che ormai i media normali praticamente a cui insomma i media normali non arrivano più ai miei coetanei o a quelli più piccoli di noi cioè la tv e i giornali sono dei mezzi io faccio la tv quindi lo so bene l'età media dei programmi che faccio io è sempre over 65 quindi ovviamente è esaurimento nel senso che per forza di cose e i dati di quest'anno delle vendite dei giornali cartacei fanno veramente impressione il numero di copie che sono state perse da gennaio 2017 a gennaio 2018 quindi i podcast potrebbero obiettivamente diventare una nuova forma di racconto di storia non so adesso qualcuno di voi non so magari ha ascoltato veleno che è stato diciamo l'unico podcast in Italia che ha avuto diciamo un lancio di un certo livello nel senso che comunque Repubblica l'ha sponsorizzato ha fatto le paginate sia sul cartaceo sia sull'online è sempre in home page in online ed è un prodotto obiettivamente anche quello fatto molto bene costruito bene ed è appassionante se vi interessa il tema cioè è comunque una forma nuova di comunicazione che speriamo venga captata da chi di dovere io devo dire che adesso appunto io e Simone stiamo cercando di capire come fare questa seconda serie e vediamo che è complicato banalmente trovare cifre che non sono ovviamente 40.000 euro ma cifre proprio basse per riuscire a fare una cosa un po' diversa Francesco e Simone volete dire qualcosa su questo? Sì io dico volentieri qualcosa perché da una parte la mia esperienza con Da Costa a Costa sul piano economico è stata una piccola eccezione grazie ai contributi forniti dai lettori e dagli ascoltatori quello era un progetto che appunto non era nato come podcast e quindi si era costruito un suo pubblico iniziale sulla base delle cose che io scrivevo poi però strada facendo io mi sono accorto almeno sulla base dei feedback che ho ricevuto che la settimana del podcast era preferita dagli iscritti alla settimana della newsletter io stesso mi divertivo di più a fare il podcast che la newsletter e gli ascoltatori hanno contribuito in modo del tutto volontario perché l'ascolto del podcast era gratuito ma io sollecitavo chi volesse a donare dei soldi per pagare le spese dei viaggi perché il progetto era tutto autofinanziato e ho raccolto in tutto l'anno 33.000 euro che mi hanno permesso di fare questi tre viaggi senza badare a spese diciamo non che sia andato nel 5 Stelle ma andando in tutti i posti in cui volevo andare senza risparmiare sulle macchine sulla benzina sugli alberghi sui posti da visitare e quindi da questo punto di vista io quell'esperienza sono riuscito a farla in attivo l'altra cosa però interessante è che noi abbiamo provato a fare la stessa cosa più o meno diciamo abbiamo provato a fare un podcast con il post qualche tempo fa facendo un numero di puntate limitato questo era stato gestito dall'inizio il podcast si chiamava il podcast ne abbiamo fatte sei e nonostante una buona risposta da parte degli ascoltatori sia in termini di numeri che in termini di feedback e complimenti e apprezzamenti ricevuti da parte del mercato pubblicitario non c'è stata una risposta altrettanto entusiasta la mia idea è che ci sia un gruppo anche sostanzioso una comunità sostanziosa di ascoltatori potenziali ma che le persone che poi prendono decisioni dentro i centri media dentro le grandi aziende non si siano ancora accorte di quanta potenzialità abbia questo strumento voglio dire anche che non è detto nemmeno che abbiano torto del tutto poi naturalmente vorrei che ci ricoprissero d'oro per fare podcast a tutti su tutti i temi possibili e immaginabili però la cosa che diceva prima Giada sul fatto che oggi la tv non ti permette più di raggiungere i lettori le persone dai 18 ai 35 anni è vera oggi le aziende hanno trovato una soluzione a questo problema usando altri canali per farsi pubblicità banalmente inserzioni su Instagram o su Facebook questo fenomeno di cui stiamo parlando è uno dei tanti fenomeni collegati al fatto che oggi le attività giornalistiche sono in diretta concorrenza anche dal punto di vista pubblicitario con cose che giornalistiche non sono perché puoi raggiungere quelle persone anche pubblicizzandoti su cose che non sono giornali podcast trasmissioni tv eccetera Simone no sì ha detto tutto Francesco nel senso che il problema è pure un po' di ecosistema non so come dire c'è da un lato il problema che probabilmente soprattutto i grandi dell'informazione avrebbero dovuto forse fare delle scelte diverse facendo capire che non tutto può essere gratis prima di tutto e quindi per certi versi abituare un po' come già succede anche in altre zone a valutare un lavoro giornalistico insomma per quello che vale e poi sicuramente c'è un problema di distribuzione pubblicitaria che è evidente che non va a colpire naturalmente solo il podcast che appunto sono pure un fenomeno ancora tutto sommato probabilmente poco considerato dalle varie agenzie e che come diceva Francesco va a preferire oggi quei canali che i cui confine tra entertainment e informazione secondo me è molto ampio ma sul quale invece si gioca l'equilibrio tutto sommato della distribuzione pubblicitaria però volevo dire una cosa invece sulla sulla questione ad esempio di come del perché Rishow ad esempio ha funzionato perché ovviamente Francesco Costa si confrontava con un paese gli Stati Uniti che sono molto più conosciuti in Italia o almeno si pensa di conoscerli molto di più io credo che ad esempio il podcast sulla Cina ci abbia consentito di avvicinare un po' un paese che spesso viene raccontato per eccessi siamo passati da una narrazione della Cina paese della censura dove sembrava che le guardie rosse girassero per Pechino ancora qualche anno fa a fare secchi i capitalisti e gli imperialisti a una narrazione in cui incredibilmente la Cina diventa oltre che paese dei miliardari l'unico paese responsabile sulla terra tutto quello che fanno i cinesi è ultra lungimerante sono praticamente dei maghi dei geni scelti in sa che modo da questo centro nevraltico e cerebrale che è il partito comunista ecco in mezzo a queste narrazioni si pone un modo di raccontare la Cina molto più concreto e che attraverso anche la scelta di declinare un po' poi tutto quello che accade anche in riferimento all'Italia forse consente una maggior comprensione di quanto accade in un luogo così distante io in questi giorni con Giada poi ci fomentiamo ogni volta che succede qualcosa ci immaginiamo puntate come è successo l'incontro tra Kim Jong-un e Xi Jinping che nelle 8 del mattino eravamo già lì a fare una scaletta per un'ipotetica puntata però pensiamo solo ai dazzi che alla guerra dei dazzi tra Trump e Xi Jinping sembra tutto molto distante da noi poi magari tra qualche mese se entreranno in funzione a fine maggio come pare se entreranno in funzione quando poi magari andremo a comprare la carne eccoli che avremo probabilmente qualche idea di che cosa significhi una guerra così distante quindi riportare un po' anche ad esempio posti sconosciuti anche a quello che succede più vicino a noi scusate è un modo forse per avvicinare anche un pubblico a dei temi ma senza banalizzarlo perché io mi ricordo quando ero in Cina che a volte proponevo magari da freelance proponevo un po' a tutti a tutto il mondo praticamente degli articoli ogni mattina e quando magari proponevo un ritratto di una persona cinese particolarmente importante mi veniva detto questo lo facciamo un po' come il grillo italiano il grillo cinese questo potrebbe essere il berlusconi cinese questo potrebbe essere qualcosa cinese ecco quello è un modo secondo me di banalizzare ulteriormente invece cercare di capire in che modo quello che succede in quella che è la seconda potenza del mondo in questo caso influirà anche sulla nostra vita presente è ad esempio un approccio giornalistico che i podcast per la libertà che hai perché non sei appunto tutto sommato sottoposto anche a un ipotetico target di lettori perché nel momento in cui abbiamo iniziato il podcast non sapevamo chi ci avrebbe ascoltato è un'ulteriore possibilità a cui ti credo sia per gli ascoltatori sia per chi li fa io penso che ci sia lo spazio che ci sia la necessità di raccontare oggi gli esteri più che mai visto appunto quello che sta succedendo dobbiamo cercare di capire di lavorare secondo me anche più tutti insieme questo è un posto anche per noi di confronto per capire come far sì intanto di cambiare la mentalità che l'informazione deve essere gratis di qualità non può essere gratis perché fare le cose costa non c'è niente da fare certo non deve essere spropositato e ci vuole una maggiore diffusione in qualche modo dobbiamo scavalcare i media tradizionali che comunque continuano a dettare legge nonostante e glielo lasciamo fare perché se uno dice no per esempio a un pezzo perché non ti pagano abbastanza dietro c'è subito un altro che è disposto a prendere la metà di quanto chiedevi tu e questo non funziona secondo me ci vuole più comunità anche tra di noi e su questo io insisto moltissimo perché noi ormai parlo di me io il mio percorso l'ho fatto è vent'anni che faccio questo mestiere ho fatto anche tutto quello che volevo fare ma gli altri cosa faranno i giovani io consiglio sempre di darsi all'idraulica che secondo me è quello il futuro servirà sempre un idraulico un giornalista oggi probabilmente è meno rilevante anche perché ci stiamo facciamo sì che gli altri ci trattino come se fossimo veramente peggio ma quello glielo permettiamo noi e quindi secondo me dobbiamo ricominciare a costruire questa professione che può essere attraverso i podcast attraverso la scrittura io amo molto la scrittura da quello che vengo poi ho scoperto l'uso della voce dei suoni e delle cose e ho cambiato metodo non vi dico che fatica perché quando ho cominciato io scrivevo i pezzi con la macchina non sono così vecchia come sembro e mandavo i fax o parlavo con i mafonisti che alcuni di voi probabilmente non sanno neanche cosa significhi però ho dovuto fare questo sforzo e credetemi per me è stato uno sforzo di cominciare a montare i pezzi capire come si fa buttarmi e scoprire nuovi mondi che sono che è il futuro però per questo dobbiamo in qualche modo essere più connessi di esserlo veramente però dico solo un'altra cosa su Richo secondo me appunto c'è il problema degli esteri in Italia nel senso che io faccio televisione ed è vero che quando si fanno le cose sugli esteri la curva dello share che è quello che misura l'audience la curva scende quasi sempre a meno che non ci sia in onda in quel momento lì l'attentato e allora la gente lo guarda io parlo di televisione in Europa sì sì assolutamente in Europa a Parigi possibilmente perché già in altri posti non viene quindi noi abbiamo un po' un problema culturale proprio italiano che siamo abituati appunto a otto pagine su Salvini telefona Di Maio non lo sappiamo e Berlusconi ha fatto il gesto con la mano destra o con la mano sinistra ieri mentre faceva il verso cioè abbiamo un po' una storia giornalistica di proprio di giornalismo politico ma interno retroscena cose che è uno stile molto italiano che è un po' secondo me anche d'ostacolo alla fine racconto degli esteri che secondo me diventa abbastanza grave in un momento storico come quello che stiamo vivendo adesso dove stanno succedendo appunto delle cose assolutamente enormi a livello mondiale e abbiamo una copertura molto molto scarsa quindi appunto io ho avuto l'idea di Rishow perché di Cina in Italia appunto come dicevamo prima o se ne parla in maniera molto folcloristica per cui appunto brutta cattiva c'è la censura i dissidenti oppure c'è appunto questa idea della Cina illuminata che è adesso appunto lungimirante e poi ci sono due altre cose cioè l'unico adesso Simone non odiarmi però io questa cosa la devo dire cioè in Italia il primo che è stato capace di parlare che ha reso la Cina diciamo pop è stato Rampini Simone che comunque è uno a cui questa cosa bisogna cioè Rampini è stato uno è stato il primo a portare la Cina in Italia a il grande pubblico prima di Rampini qualcosina ma insomma il famoso libro non so se ve lo ricordate col dinosauro rosso all'inizio degli anni 2000 è stata la prima cosa dopodiché diciamo che oltre a quella cosa lì più di tanto non si è andati se non nelle nicchie nel senso che comunque anche i giornali quelli importanti quando parlano di Cina appunto tendono a non a non spiegare cioè raccontano la notizia ma senza spiegare cosa significa la notizia nel contesto che è una cosa fondamentale per un paese come la Cina perché noi non abbiamo assolutamente gli strumenti per leggere le vicende cinesi se qualcuno non ce li dà semplicemente non perché siamo proprio due mondi molto diversi quindi l'idea di Rishow era anche di rendere di non fare lo spiegone universitario alto da sinologi ma di rendere anche abbiamo trovato delle chiavi anche molto molto pop per rendere anche divertente e piacevole poi l'ascolto di temi che magari sono pesanti perché abbiamo fatto delle puntate obiettivamente su temi anche molto complessi come appunto la Cina in Africa che è un tema ovviamente su cui si potrebbero fare otto ore di puntata noi abbiamo fatto 35 minuti abbiamo dovuto fare delle scelte ma abbiamo cercato di rendere comunque tutto fruibile in una maniera che puoi ascoltarla anche mentre fai altre cose quindi è proprio è un linguaggio totalmente nuovo e che secondo me va benissimo affiancare anche a poi letture invece di approfondimento molto più settoriali o diciamo specializzate noi invece siamo pesantissimi sempre noi abbiamo cercato di fare questo taglio qui perché poi la Cina è anche vista spesso è un po' anche ostica ogni tanto ma nella mia esperienza personale ogni volta che io dicevo ho vissuto sei anni a Pechino ho fatto questo quest'altro poi in realtà la curiosità nel mio interlocutore c'era sempre quindi da lì ho detto forse in realtà esiste un pubblico per questo tipo di contenuto non avevo idea ce ne fosse così tanto ma secondo me a questo punto mi viene da pensare che in realtà se ci fosse la possibilità di fare anche della pubblicità o delle cose ce ne sarebbe ancora di più perché effettivamente manca cioè mancano dei luoghi mainstream dove trovare queste informazioni io di questo sono assolutamente convinta che se ci fosse maggiore diffusione improvvisamente potrebbe cambiare tutto perché la gente a questo punto se tu gli offri un prodotto e il prodotto è fatto bene non è che lo disdegna è un po' come quando vai a mangiare non può essere sempre low food cerchi la qualità però devi sapere che esiste primo e devi sapere in qualche modo dove andartela a cercare però una volta superata questa barriera secondo me sarà sempre più semplice il punto è come fare e questo magari se qualcuno ha qualche risposta anche qua in sala lo invito a darci a illuminarci vuoi far sentire un pezzetto di rischio? sì sì ma volevo far sentire Peng Li Yuan se la trovo no guarda c'ho questo questo era l'inizio della puntata sento Simone che no no faccio sentire Jack Ma allora noi abbiamo fatto una puntata che raccontava la storia di due miliardari cinesi per far capire diciamo due storie come si può dire opposte uno è Jack Ma che è il fondatore di Alibaba che forse avete sentito nominare che insomma è un personaggio di cui qua sì se ne parla ma insomma è tipo uno che sta cambierà insomma ha creato un impero ma molto all'avanguardia e e l'altro è un po' vediamo riuscite a sentire qualcosa questa era la stessa ma addirittura ma ho ho l'iPhone quello maledetto no ha lo Jack quello strano io poi c'ho quello giusto vabbè è il 19 settembre 2014 a Wall Street si apre la seduta di contrattazioni Alibaba una delle società di e-commerce più importanti al mondo sta per debuttare in borsa appena raccolto oltre 230 miliardi di dollari l'offerta iniziale più alta della storia let me ask you this is a great American story that's actually a tiny story I wonder who who are your heroes who are my heroes yes the hero I had is Forrest Gump you know he's a fictional character though you didn't like that guy I've been watching that movie for about 10 times every time when I'm frustrated I watch the movie and I watch movie before I came here again for humility for coming to the New York because I watch the movie again telling me that no matter whatever changed you are you and I'm still the guy 15 years ago you know I only earned like 20 dollars a month and today I can do that much you know questo è il fondatore di Alibaba Jack Ma il secondo uomo più ricco della Cina e il diciottesimo al mondo intervistato dopo il trionfo dell'IPO l'offerta pubblica iniziale della sua società sì avete capito bene Ma dice l'intervistatore della CNBC che l'eroe a cui si è ispirato è Forrest Gump quello di stupido è chi lo stupido fa e mamma diceva sempre la vita è uguale a una scatola di cioccolatini non so mai quello che ti capi tanto che il giornalista Basito gli chiede ma lei sa che è un personaggio inventato vero? beh sappiate che per l'eccentrico fondatore di Alibaba questo è niente andando avanti nella storia scoprirete che il personaggio è molto originale ma partiamo dall'inizio e con il nostro reshow eccetera eccetera questo era l'inizio della puntata su Jack Ma come vedete abbiamo scelto per scriverla e io ho ascoltato un sacco di interviste di video ho letto libri ho lavorato tantissimo perché infatti a un certo punto avevamo tipo 17 cartelle di word non sapevo più cosa tagliare perché io sono sulla lunghezza dei podcast sono un po' rigida e penso che debbano essere al massimo di 30 minuti e quindi 25-30 minuti perché io penso che se no però è una mia idea e quindi anche con Simone vedevamo 17 cartelle di word e dicevamo cosa tagliamo cosa non tagliamo perché Jack Ma è veramente un personaggio incredibile e quindi ci siamo divertiti a cercare queste questa è l'intervista in cui appunto lui dice quanto ama Forrest Gump e dice che lui riguarda il film ogni volta che ha un evento importante perché gli dà la motivazione psicologica e emotiva per affrontare le cose che è un dettaglio che però ti descrive in qualche modo ti dà già un sapore di che cos'è poi effettivamente il personaggio e così l'abbiamo cercato di fare su quasi tutto nella prima puntata non lo faccio sentire perché se no Simone si sviene ma abbiamo parlato della biografia di Xi Jinping che è il presidente della Repubblica Popolare Cinese e abbiamo raccontato anche del suo matrimonio lui è sposato con una generalessa dell'esercito popolare di liberazione che si chiama Peng Li Yuan che è un famosissimo soprano e abbiamo io ho voluto assolutamente mettere l'audio del cantato di Peng Li Yuan perché l'impostazione vocale di un soprano cinese è diversissima da un soprano occidentale ed è inimmaginabile per un occidentale cioè noi non abbiamo nessun riferimento per immaginarci com'è l'impostazione vocale di un soprano cinese e quindi il podcast permette anche di fare questo tipo di approfondimenti che sono sonori non sono visivi ma ti danno poi comunque un sapore è una caratterizzazione più generale e comunque approfondita in qualche modo Simo si hai qualcosa da dire? è morto ah no pensavo partisse la canzone no la cerco tu intanto faccio sentire un pezzetto invece qui siamo nell'ultimo giorno io ho trascorso due settimane a Caracas alla fine quest'estate quando alla fine delle manifestazioni sono arrivata non seguendo l'America Latina quindi a digiuno da tutto cercando di studiare prima di arrivare e trovandomi immersa in una realtà che io per niente mi aspettavo ed è un posto dove non si trova da mangiare dove le medicine sono completamente assenti dove la gente è stremata sono state due settimane dure perché ho fatto il giro di ospedali politici scrittori ho incontrato tutti quelli che potevo incontrare nel poco tempo che avevo l'ultimo giorno la mia fixer che sono i traduttori che sono quelli che mi organizzano mi dice devi andare a intervistare questa ragazza nelle favelas e io non avevo tanta voglia perché ero veramente stanca e invece ne è uscito un pezzo devo dire straziante vi faccio sentire ed era l'ultimo pezzo dove io sono proprio come si dice si può dire ho pisciato fuori dal vaso però secondo me rende l'idea di quello che facciamo quando siamo invece fuori sul posto in giro come è fatto come è fatto che cos'è che cos'è di quello Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.